Musica Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. Cominciamo con l'argomento più dibattuto in questi giorni, quello dei vaccini, con il piano vaccinale anti-covid della Regione Toscana. Una risoluzione a questo proposito è stata approvata dall'Aula dell'Assemblea Toscana che impegna la Giunta a riferire e aggiornare per quanto riguarda proprio le attività correlate al piano vaccinale e alle vaccinazioni anti-covid sul territorio. Approvata dal Consiglio regionale la risoluzione della Commissione Sanità che impegna la Giunta Toscana a informare costantemente sull'evoluzione del piano vaccinale anti-covid e di tutte le attività adesso correlate. Il piano è un piano nazionale di vaccini al quale le Regioni devono svolgere una serie di atti organizzativi importanti per implementarlo sul territorio di intesa con il livello nazionale. La Toscana sta facendo tutto questo ovviamente in maniera attenta, all'avanguardia. L'assessore Bezzini è già venuto in commissione a relazionare in generale sul tema e si è impegnato a venire nelle prossime settimane. Il nodo è che la questione vaccinale non è una questione che si esaurisce in una settimana. Riguarderà tutto il 2021 perché noi dobbiamo vaccinare tendenzialmente tutta la popolazione toscana. È un'operazione che non si è mai fatta nella storia. Abbiamo vaccini completamente diversi e dei quali si sta testando l'efficacia rispetto a quelli nuovi. Però sono autorizzati due vaccini, quello della Pfizer e della Moderna. Lo saranno poi gli altri nelle prossime settimane. È una macchina organizzativa complessissima per l'organizzazione logistica, per l'individuazione dei soggetti e delle priorità. Noi abbiamo votato a favore perché su un provvedimento del genere la politica non può dividersi. Detto questo non abbiamo rinunciato a denunciare il fatto che siamo in tremendo ritardo. Un vaccino tra l'altro molto particolare perché può stare fuori dalle celle frigorifero a 80 gradi sotto zero soltanto per sei ore. Quando si apre una scatola si aprono fino a 98 dosi. E quindi è chiaro che ci vuole scientificamente le persone, nome, cognome, numero di telefono, ora al minuto preciso che si sottoporranno al vaccino. Al rischio di sprecare, come purtroppo sta succedendo in Inghilterra, dove probabilmente hanno una capacità organizzativa migliore della nostra, dove stanno sprecando centinaia di dosi giornaliari per questo motivo. Critica la posizione del Movimento 5 Stelle espressa dalla consigliera Silvia Noferi, così come quella di Forza Italia, che ha espresso voto contrario perché, ha affermato Marco Stella, si tratta di un tema da non discutere in aula, visto che attiene al governo e alla comunità scientifica. Il consigliere ha poi sottolineato la necessità di investire nella farmaceutica da parte della Toscana. Non investire sulla farmaceutica in Toscana è pura follia. Si parla di Farmavale ormai da quasi 15 anni. Mentre la politica parla di Farmavale, le aziende si sono sfilate da quel protocollo. Come meglio voi sapete di me, alcune aziende importantissime. Fra l'altro noi abbiamo la prima azienda italiana, lo voglio ricordare, che è Menarini, una delle più grandi aziende nel mondo. Ma cosa chiedono le aziende del distritto farmaceutico? Chiedono più rapidità di trasporti, più velocità, chiedono di essere più vicini agli aeroporti e ai porti. Questa è la visione. Non c'è visione e non c'è visione perché non si ha consapevolezza del momento critico che noi stiamo vivendo. E si è parlato anche di attività che riguardano i porti della Toscana, il lavoro dell'autorità portuale nel Consiglio regionale con l'ok al bilancio per quanto riguarda proprio l'attività portuale regionale. Nel dettaglio tutti i numeri e le opinioni a questo proposito. È stato approvato con 21 voti a favore e 13 astensioni dal Consiglio regionale il bilancio di esercizio 2019 dell'autorità portuale toscana. Nel presentare l'atto in aula, la Presidente della Commissione Territorio e Ambiente, Lucia De Robertis, ne ha ricordato le funzioni di gestione, ovvero progettazione, pianificazione e realizzazione delle infrastrutture portuali e delle aree demaniali marittime, all'interno degli ambiti portuali di Viareggio, Santo Stefano, Marina di Campo e Giglio. Sul fronte del bilancio l'ente ha conseguito un utile in aumento rispetto a quello dell'esercizio precedente, il 20% del quale da destinare a riserva legale per la copertura di eventuali perdite future e il restante 80% da restituire alla Regione. È un bilancio che porta un utile di 168 mila euro contro quello dell'anno precedente di 30 mila, quindi una crescita dell'utile. Dal punto di bilancio si notano criticità dal punto di vista dell'impiego del personale perché sono previste 18 unità ma invece se ne utilizzano al momento 13. ci sono dei lavori tra i quattro porti dell'autorità regionale che si protraggono nel tempo e purtroppo con tempi molto lunghi. Noi abbiamo come opposizione portato avanti la necessità delle manutenzioni ordinarie da effettuare su questi porti, in particolare quelli di Viareggio e di Marina di Campo ma anche dell'Isola del Giglio e di Porto Santo Stefano perché sono delle cifre che variano negli anni e che invece hanno una notevole importanza perché si capisce che sui porti la manutenzione ordinaria acquisisce una valenza prioritaria. Su questo ci ha fatto piacere che è intervenuto successivamente alla Commissione anche l'assessore delegato. Detto questo abbiamo anche affrontato la questione degli escavi dei porti che riguardano principalmente Viareggio e Marina di Campo. Sono dei lavori che purtroppo si devono ripetere ogni 3-5 anni e noi abbiamo anche chiesto di valutare politicamente delle strategie infrastrutturali che permettano di risolvere, se non in maniera assoluta, la problematica dell'insabbiamento ma chiaramente anche di poterla allungare nei tempi. Dai porti alle terme in Consiglio regionale si è discusso del futuro di quelle di Montecatini al centro di una vicenda piuttosto complicata. È stato fatto il punto della situazione proprio all'interno di Palazzo del Pegaso. Sono soddisfatto dell'audizione con Alessandro Michelotti, amministratore unico delle terme di Montecatini S.P.A., che ci ha presentato lo stato dell'arte della società e che con molta trasparenza ci ha messo nelle condizioni di capire l'urgenza e la complessità della situazione. Così il presidente della Commissione Controllo del Consiglio regionale, Alessandro Capecchi, ha commentato l'impegno dell'Assemblea Toscana sulla vicenda. La regione è proprietaria del 67% delle quote delle terme di Montecatini S.P.A. Una società che nell'ultimo anno l'abbiamo appurato dall'esame del bilancio consolidato ha perso in termini di valore della partecipazione oltre 5 milioni di euro. È quindi nostro dovere, oltre che diritto, capire come sta la situazione anche alla luce del recente bando per la vendita del patrimonio immobiliare che ha visto un interesse manifestato solo da un soggetto esterno e ha fatto una proposta complessiva sul sistema delle terme e sulla città di Montecatini perché gli unici due immobili che hanno ricevuto offerte sono due immobili residuali. Quindi la Commissione avrà il compito di confrontarsi all'amministratore delle terme per capire l'evoluzione della situazione e naturalmente le possibilità che ci sono realmente che questa operazione proposta da questi investitori internazionali possa concretizzarsi anche per la tutela del patrimonio immobiliare detenuto dalla società. L'amministratore unico Alessandro Michelotti, partendo dal progetto delle Leopoldine del 2009 mai andato in porto a causa di notevoli perdite per la società si è anche soffermato sulla manifestazione di interesse della Guild Living interessata non solo agli immobili delle terme ma a fare di Montecatini un centro dedicato alla longevità con possibilità di edificare da qui la necessità di fare un nuovo bando e quindi di aprire un tavolo tra regione, comune e sovrintendenza per entrare nel merito delle eventuali offerte tenendo conto dei vincoli su immobili e terreni. Chiudiamo con un bilancio riguardante l'attività del difensore civico della Toscana che ha illustrato Sandro Vannini in prima persona tutti i numeri dell'anno appena trascorso insieme al presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo. L'epidemia ci renderà più buoni, si diceva. La freddezza dei numeri invece ci dice altro. Controversie e istanze in aumento nell'anno del Covid è la fotografia del 2020 del difensore civico della Toscana Sandro Vannini che ha tracciato il bilancio dell'attività svolta insieme al presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Siamo a 1.900 istanze presentate dai cittadini, già oltre 100 rispetto a quelle dell'anno precedente e ci sono delle proiezioni per superare abbondantemente le 2.000 in questo conteggio, non ci sono le pratiche che in questo momento sono in lavorazione, quindi una crescita prevalentemente sull'emergenza sanitaria, 150 casistiche di natura generale hanno riguardato problemi di cittadini sul Covid, ma non singoli problemi, ma problemi che appunto riguardano la loro generalità di diritti. Tante istanze sul tema dell'emergenza economica, bollette, luce, acqua e gas, quelle che prima pesavano in una certa maniera con l'emergenza economica, pesano molto di più. La difficoltà dei cittadini è rivolta soprattutto ai gestori dei servizi, luce, acqua, acqua un po' meglio grazie alla presenza di AIT, Autorità Idrica Toscana, dove c'è una conciliazione che viene svolta da anni e il difensore grazie ad AIT svolge questo ruolo di definizione delle controverse tramite un organismo nato appunto un organismo di conciliazione nell'acqua, ma la luce e il gas e l'energia hanno dei problemi perché l'interlocuzione è con non gestori di prossimità ma gestori nazionali, così il tema del digital divide e della telefonia. I cittadini vedono in noi un filtro, svoliamo una funzione di filtro verso i conflitti che i cittadini hanno con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici. Siamo sostanzialmente nel corpo umano il fegato, da noi vengono a portare i problemi, da noi i cittadini trovano un punto di ascolto e noi cerchiamo di rimuovere gli ostacoli che sovente hanno con la pubblica amministrazione adempimenti online non sempre ben funzionanti, tutto il tema del rapporto alla pubblica amministrazione e anche trasporti pubblici che, dobbiamo dire, abbiamo rilevato molti problemi, soprattutto oltre che in sanità ma anche con i gestori dei servizi pubblici. Io intendo il ruolo del difensore civico non solamente come colui che difende le istanze dei cittadini ma colui che crea dei legami tra i cittadini e le istituzioni. Esattamente in linea con la mia idea di governo della regione toscana, l'idea di fare del Consiglio regionale un luogo per dare voce a chi voce non ce l'ha, uno spazio aperto in cui i cittadini si sentano a casa propria. Troppo spesso il Consiglio regionale non viene percepito da chi sta sul territorio per quello che è il suo lavoro e per quello che viene fatto. Io credo che la strada intrapresa sia quella giusta anche con degli uffici territoriali. Ne abbiamo inaugurato insieme uno a Pisa lo scorso anno ma ci sono in varie parti della regione. La strada è quella a portare sempre più la regione verso i territori per fare in modo che anche i territori più disagiati possano avere le loro opportunità come tutti gli altri. Ed infine una proposta che ho fatto già al difensore civico, quella di lavorare ancora di più sul tema del divide digitale per dare risposte a chi oggi ha meno risposte su questo tema. Io ho lanciato la proposta, è stata approvata nel Recovery Fund di fare in modo che la banda larga, il 5G ci sia in tutta la Toscana anche nelle aree in cui i privati non vogliono investire. Credo che questa sia una strada da perseguire insieme. sono convinto che Sandro e gli uffici lo faranno con passione, dedizione e con l'impegno di contraddistinto. E con questo è davvero tutto. La nostra puntata della Voce del Consiglio termina qui. Vi ricordo che potete sempre restare aggiornati sulle notizie e le attività dell'Assemblea Toscana anche all'indirizzo www.consiglio.regione.toscana.it. Grazie per essere stati in nostra compagnia e buon proseguimento ovviamente su RTV38. Arrivederci. Grazie.